eccoci con mauro macias esport chef responsabile di sasame shout che espone dei nuovi prodotti che ora ci più o meno ci illustrerà a te la parola mauro buongiorno buongiorno a tutti grazie mille grazie a te per la tua visita siamo come tutti gli anni fanno la istituzione alla EFT e questo anno a brussela quindi abbiamo una gamma ampia di novità per il mare l'acqua dolce tanto il nostro marchio shouto sasame come riu e jungle gym abbiamo tanti ami e gighe ami doppio e tutta una nuova gamma per introdurre questo anno e fare tutta la nuova esperienza nella pesca benissimo mauro adesso andremo a vedere i vari prodotti e ce li spiegherai uno per uno va bene così grazie mille andiamo bene presentiamo adesso il nuovo ami della sasame e della shouto abbiamo per l'acqua interna per l'acqua dolce abbiamo lo del feeder che sono questi due modelli il feeder method con tre misure e il feeder classico con tre misure dopo nel mare abbiamo la già riconosciuta marchio shouto abbiamo un amo doppio e dopo è l'assista e l'assista abbiamo due modelli uno piccolino è un classico modello che tanto venduto con il nostro conosciuto amo curato che è questo bene adesso stiamo con altri nuovi prodotti per questione della shouto abbiamo le pop in per abbiamo tutte questa nuova gamma e dopo abbiamo un nuovo gig il nuovo gig sono di un materiale che non è il piombo è il stagno sono questo è il sn lance e dopo abbiamo un gig piccolino che è un gig per spinning il nuovo nostro è il rice che sono una grammatura sono grammature differenti sono di 10 20 30 e 40 grammi e dopo al finale abbiamo un nuovo marchio nostro che è il jungle jean un nuovo e diciamo un nuovo e strumento per il light game si chiama yuri e nel giappone lo facciamo per la pesca del mebaru sono questi